www.automobili.com Ciao a tutti, siamo arrivati in un'automobili e abbiamo notato che ci sono tantissimi buracchi in un'automobili, perché ci sono in un'automobili per attenzire queste situazioni. Allora in un'automobili e allieviare l'automobili perché basta un buracchio in un'area. Abbiamo notato che ci sono un'area differente, un'area che è un'area di Dain.